Buongiorno Friuli, benvenuti a una nuova edizione della nostra rassegna stampa sportiva. Anche oggi analizzeremo i vari temi che riguardano l'Udinese e non solo. Purtroppo apriamo la nostra rassegna parlando proprio di quella che è stata la partita di ieri sera. Prima uscita stagionale dei Bianconeri e prima sconfitta contro lo Spezia. Formazione che milita in Serie B, Udinese che è dunque già fuori dalla Team Cup. Una gara, quella con lo Spezia che sicuramente si sperava potesse avere un esito diverso ma che purtroppo ha visto l'Udinese un po' troppo sulle gambe e subire una sconfitta. Sicuramente inaspettata ma che non deve pregiudicare nel morale quella che poi sarà la vera e propria stagione bianconera che inizierà di fatti la prossima settimana contro la Roma. La Team Cup da adesso in poi non sarà più una preoccupazione. Mettiamola così, il messaggero apre con che figuraccia Udinese fuori dalla Coppa, gol regalati, un rigore e occasioni sprecate. Lo Spezia Corsaro al Friuli con pieno merito. Io direi a questo punto prima di iniziare a parlare proprio di quella che è stata la prima uscita stagionale dell'Udinese e di andare a rivederci quantomeno quelli che sono stati i gol della partita. Tanti gol, alcuni pregevole fattura, altri decisamente frutto del caso o comunque delle imprecisioni difensive. Allora eccola la sintesi di Udinese Spezia 2. Si respira un'aria nuova qui alla Dacia Arena per il primo atto della stagione 2016-2017 ai posteri. L'ardua sentenza se quest'aria sarà aria di fresca e alta classifica. Per ora ci si concentra sulla Team Cup. Bado. Depol solo può girarsi. Depol calcia la palla deviata! La palla deviata in porta! Rodrigo Depol all'esordio ufficiale con la maglia numero 10. Trova la rete del vantaggio e il balletto con Bado e Armero per Rodrigo Depol. Era già idolo dei tifosi, adesso lo diventa ancora di più Rodrigo Depol. Applausi a Depol, applausi a Carnezis. Adesso il corner, la palla allontanata da Felipe, resta lì. Valentini forse con una mano, ne ne è, gol! Lo Spezia pareggia con un rimpallo fortunoso. Alla fine forse l'ultimo tocco è stato di Errasti. Nene prova ad andare in profondità da Mastinu. O che reghe sul pallone, o che reghe il 2-1 dello Spezia. Questa volta il gol è pulitissimo. La difesa si è mossa molto male sulla verticale di Nene. Eccolo ancora Wittmer che pensa al cross morbido. Nella zona di Bado, calcio di rigore per l'Udinese. Brutto fallo di Pulsetti su Bado. Il fischio di Abisso. La partenza sincopata di Duval Zapata che sbaglia il calcio di rigore, tirando effettivamente male. Lo Spezia alla fine l'ha battuta, la palla che resta lì e viene allontanata. Matos migliore la ripropone. Erto allontana, ancora migliore di testa nella zona di Nene. 3-1 dello Spezia. La posizione di Nene era regolare. È salita probabilmente male la formazione bianconera. Iachini arrabbiato come pochi. Il numero di De Paul. De Paul prova ad andare in area di rigore. Ancora l'argentino che crossa per Zapata. Eccolo! Il gol di Duval Zapata. Perché se stiamo calmi, in porta ci arriviamo. Il gol lo facciamo. Segna Duval Zapata. Forse, forse un attimo troppo tardi. Eh sì, eh sì. Un attimo troppo tardi. È stato purtroppo buon profeta qui Stefano Giovampietro nel raccontare il gol di Duval. Arrivato all'ottantottesimo quando oramai i giochi erano fatti. Vediamo cosa scrive il messaggero con Stefano Martorano che scrive bye bye Coppa Italia. L'Udinese saluta anzitempo la competizione che andando di brutto la prima uscita ufficiale e toglie il disturbo tra le rumorose contestazioni sollevate dai propri tifosi allibiti dopo aver assistito ai vecchi e per niente cari errori che la scorsa stagione costarono quasi la retrocessione. Già perché tra amnesie difensive e difetti di mira in attacco l'Udinese ha dato l'idea di trovarsi ancora legata al passato ma soprattutto a metà di tutto favorendo più le insicurezze delle sicurezze sul nuovo modulo. sarà dunque lo Spezia di Mimmo Di Carlo a sfidare il Palermo al quarto turno. Eccoli poi gli altri risultati che fanno il punto sulla giornata di Coppa Italia. il Genova-Batellice 3-2, Bologna-Trapani 2-0, Palermo-Bari 1-0, Udinese-Spezia 2-3, Novara-Latina 1-0, Perugia-Carpi 2-1, Pescara-Frosinone 2-0, Torino-Provercelli 4-1, Atalanta-Cremonese 3-0, Cesena-Ternana 2-0, Verona-Entella 3-0 e poi Empoli-Vicenza 2-0. Questa sera Sernitana-Pisa, Verona-Crotone, Sampdoria-Bassano e domani il Cagliari affronterà la SPAL di Meret e Pontisso. Diciamo insomma di un Udinese che non ha fatto sicuramente benissimo, un Udinese che ha sofferto quella che è stata l'intraprendenza dello Spezia, mentre la banda di Iachini ha avuto un po' d'ansia, come ha detto il mister. Forse ci sono un po' di retaggi del passato, abbiamo accusato il gol del pareggio, questa è la frase che il messaggero ha estrapolato all'intervista a Iachini, con il tecnico che è stato molto onesto dicendo non possiamo permetterci insomma di avere questo tipo di atteggiamento in situazioni del genere. Io direi a questo punto di andarcelo proprio a sentire quello che è stato il pensiero di mister Iachini ai nostri microfoni, ha cercato di fare il punto della situazione e di provare a capire i motivi della debacle. Mister, purtroppo si è iniziato col piede sbagliato, soprattutto per colpa di qualche gol concesso in maniera rocambolesca, soprattutto il primo e il terzo. Sì, hai detto bene, anche perché eravamo partiti giusti, i primi 25 minuti e mezz'ora si era partito col piede giusto, spingendo, creando situazioni da gol. Siamo arrivati spesso lì, magari sbagliando anche la conclusione, l'ultimo passaggio, però eravamo in partita giusti. Poi siamo passati in vantaggio, c'è stato questo episodio sul calcio d'angolo, eravamo in 2-3 sulla palla e un rimpallo ha fatto sì che prendessimo gol. La cosa che mi fa pensare un po' è il fatto che abbiamo subito un po' psicologicamente questo episodio. Questo non deve accadere, questo mi fa pensare magari a qualche retaggio di ansia eccessiva che nel calcio non ci deve essere, perché dobbiamo ritornare a giocare, mettere la palla al centro e continuare a giocare per come abbiamo fatto. E questo ovviamente nell'andare avanti della gara ha fatto sì che psicologicamente la gara prendesse una piega di un certo tipo, ma siamo rientrati con piglio giusto, purtroppo abbiamo sbagliato, c'è stato l'episodio del rigore che avrebbe permesso anche psicologicamente di riaccendere ancora di più e di recuperare la gara. Non ci siamo riusciti e poi c'è stato quest'altro errore magari sul terzo gol, ancora su un angolo, quindi due palle inattive sulle quali ce l'avevamo detti e dovevamo prestare attenzione perché poi le situazioni da gol, sotto porta siamo arrivati molto, abbiamo concluso in porta, però non con quella cattiveria, con quella precisione che ovviamente partite come queste hanno bisogno che hai. Lei ha centrato, mister, all'argomento proprio delle ansie che si sono viste in campo, delle scorie e faccio l'esempio di un tiro di Zapata sbagliato in cui il giocatore faceva fatica quasi a rientrare al centrocampo, De Paul, Peñaranda, i nuovi lo hanno spronato, stimolato l'azione dopo, ha fatto gol. Qui si vede la differenza. Sono puliti, loro sono un po' più liberi forse mentalmente in questo senso, magari qualche ragazzo ovviamente un po' con le scorie che dobbiamo eliminare, sta a noi però a far girare queste cose e a portarle nel verso giusto, siamo noi a dover dare input a tutto l'ambiente, allo stadio, ai nostri tifosi, a tutto quanto, quindi dispiace sicuramente per come sono andate le cose, ma il fatto di aver fatto due gol, il fatto di averne sbagliato qualcuno di troppo vuol dire che stiamo creando o stiamo costruendo. Rispetto alle altre partite abbiamo pagato Dazio su un paio di episodi, soprattutto le palle inattive dove dobbiamo prestare attenzione perché fanno parte del calcio, perché per il resto la squadra in questo scorso di precampionato aveva dimostrato come organizzazione difensiva una certa solidità e quindi dobbiamo riprendere strada in quel senso e migliorare, essere più determinati nei singoli episodi, sia quando ci capita la mezza situazione dietro, sia davanti per andare a determinare e a sbloccare la partita o a mettere la partita su binari giusti. In ultima considerazione è sempre difficile metabolizzare un'uscita da una competizione, però sabato arriva la Roma quindi bisogna mettersi con la testa sotto e lavorare e comunque indicazioni anche dai giocatori che sono entrati oggi a gana in corso sono state positive, cito su tutti i pegnaranda, ma comunque sia Alfredson che Jankton sono entrati molto bene. Sì, questo è lo spirito che ci deve essere, ma questa partita se siamo intelligenti ci serve per migliorare, per andare avanti e capire cosa dove abbiamo sbagliato e cosa non ci possiamo permettere sulle mezze palle, su queste situazioni qui, dobbiamo essere ancora più attenti perché poi nel campionato italiano, lo sappiamo, possono essere determinanti, stiamo lavorando molto sotto questo aspetto perché i numeri del passato ci dicono purtroppo che negli ultimi tre anni abbiamo subito tanti gol, abbiamo subito 174 gol e quindi non è possibile poi poter andare a determinare e vincere le partite, stiamo costruendo e andando a migliorare sulla fase offensiva anche se dobbiamo essere, ripeto, più precisi, più incisivi, più cattivi nell'ultima conclusione, nell'ultimo passaggio e anche stasera siamo stati molto a ridosso dell'area di rigore avversario e abbiamo costruito, ma è chiaro che nello stesso tempo dobbiamo essere attenti come lo eravamo stati nelle partite precedenti anche nella fase dei duelli, di palla inattiva e quant'altro perché poi in un campionato difficile come quello di Serie A possono determinare anche psicologicamente e poi oltre che tatticamente la partita e la gara. Queste le parole di Beppe Iachidi relativamente alla sfida di ieri, ieri poi si è parlato anche di Felipe, sembrava essere venuto fuori un piccolo caso relativamente al rinnovo editoro brasiliano, il caso però si è già sgonfiato con le parole del direttore sportivo Nereo Bonato che ha chiarito e in programma il rinnovo, ci stiamo lavorando tutti, non resta che aspettare, parole senza dubbio rassicuranti per un giocatore arrivato a Udine da ragazzino, cresciuto nell'Udinese, sposatosi con la frulana Caterina e residente a Tarcento, l'Udinese Felipe la porta dunque nel cuore ma c'è sempre il lato professionale da considerare visto che l'età non è più verde è anche plausibile che il giocatore punti al suo meglio che per Felipe sarebbe restare a Udine ma con un prolungamento contrattuale. Poi resta da capire anche il futuro di Cyril Theroux e di altri giocatori che sono in bilico come Edenilson che ha ambito al Genova e dall'Atalanta e poi un trasferimento che sembra rallentare perché Udinese sta cercando comunque un esterno destro per sostituire appunto Edenilson mentre Widmer sembra destinato a restare anche ieri Silvan uno dei migliori. In entrata ci sono sondaggi importanti per Gonzalo Mendes-Pazienza del Porto e per Kevin Lasagna che ha fatto un ottimo Olimpiade con Bruno Fernandes e il suo Portogallo Under-23 e poi Kevin Lasagna che con il Carpi in questo momento è impegnato nel campionato cadetto vedremo però quale sarà il futuro di un giocatore che sembra pronto comunque a disputare la Serie A. Poi abbonamenti a quota 10.000, è stata prolungata la campagna abbonamenti fino al 25 agosto nonostante l'incertezza tecnica scrive il messaggero alla chiusura ufficiale il numero di fedelissimi che ha già acquistato una tessera supera quota 10.000, un risultato che ha spinto l'Udinese alla proroga. Le modalità di sottoscrizioni rimangono invariate attraverso il circuito list ticket e all'Udinese Point della curva nord. Dunque questa è la situazione per quanto riguarda la campagna abbonamenti. Noi chiudiamo solo per un attimo la parentesi udinese, parliamo di quelle che sono le Olimpiadi gli europei di basket under 16, partiamo proprio da questo argomento che insomma non ce ne vogliano le ragazze del basket è un filino meno importante rispetto alle Olimpiadi di Rio. Italia che ha perso con la Spagna 49 a 57 la semifinale e ora proverà a conquistare il bronzo resa delle azzurrine che oggi se la vedranno con la Francia mentre la Spagna giocherà contro la Germania. Comunque complimenti alle nostre ragazze mentre facciamo grandissimi complimenti a Rossetti che nella competizione del tiro a volo nello skipper ha bissato il successo delle donne per lui, per il Toscano Rossetti, un oro e l'abbraccio del papà sul podio 24 anni fa a Barcellona ma poi dobbiamo segnalare anche il successo nella notte di Greg Poltrineri che ha vinto l'oro nella 1500 metri stile libero, parliamo di nuoto, davvero un risultato importantissimo per l'Italia che conquista una medaglia d'oro in una competizione come quella del nuoto che è storicamente di padronanza diversa da quella italiana e invece con Poltrineri c'è davvero il sogno che prende forma, un oro meraviglioso. Poi ancora la Cagnotto in finale nella piscina verde, la gara e le polemiche, gli atleti protestano, gli organizzatori corrono ai ripari, cambieranno l'acqua, intanto una velista si è ammalata. La finale oggi è alle 21, stellari le cinesi, Shing Timao e Ezi, Tania si giocherà il bronzo con la Abel. La belga Evi Van Acker avrebbe contratto un'infezione intestinale a causa delle acque di Guanabara. Purtroppo non funziona benissimo quanto pare l'impianto di depurazione delle piscine e comunque insomma di tutto ciò che comporta gli sport acquatici è un problema che va assolutamente risolto prima che qualcuno si faccia male sul serio. Torniamo a parlare di Udinese, ci spostiamo sul gazzettino, bianconeri fuori tra i fischi, lo spezia superiore per giochi e organizzazione, si salvano Depol e Carnezis. Squadra confusa, Zapata sbaglia un rigore e si mangia. Un gol, mamma che brutta Udinese, scrive il nostro Guido Gomirato. Subisce tre reti dallo Spezia che passa il turno in Coppa, viene superata anche sul piano dell'organizzazione del gioco e sul piano tecnico. Una sera taccia, pochissimi si sono salvati. Carnezis e Depol autore di un gol e di un assist e alla fine la squadra di Iachini è stata sonoramente fischiata. E pensare che l'Udinese non è partita male, cercando di imprimere anche un buon ritmo indispensabile per mettere in difficoltà il sistema difensivo dello Spezia. Nel mezzo Fofanà ha fatto valere la sua prestanza fisica, ma al momento di creare gioco non si è visto per cui i bianconeri si sono affidati all'estero di Depol. Ai suoi cambi di marcia, alla velocità di rider Matos, ma scarsamente concreto, con Zapata peraltro marcatissimo, sempre in agguato. Purtroppo non ha funzionato la tattica dell'Udinese, mentre ha pagato quello dello Spezia, come abbiamo visto dalle immagini, bravi anche a sfruttare le occasioni che l'Udinese ha concesso con troppa facilità, oggettivamente, tre gol dello Spezia, tutti e tre molto molto semplici dal punto di vista della realizzazione. Ranghieri, la favola è finita, parliamo ancora di Olimpiadi, il Beach Volley contro la coppia di connazionali Lupo Nicolai arriva alla sconfitta di mezzanotte, resta la soddisfazione per l'eccellente vetrina brasiliana. Un derby crudele, quello per gli italiani del Beach Volley. L'Urna è stata Beffarda e quindi Lupo e Nicolai sono riusciti ad aggiudicarsi al quarto tentativo, la loro prima fermazione in campo internazionale, su Ranghieri-Carambula, proprio sul palcoscenico più importante. Un 2-0 meritato che lascia però l'amaro in bocca. Carambula ha giocato le ultime due partite debilitato e anche se non ha mai utilizzato il malessere come un alibi, questo ha inciso sicuramente sul risultato finale. Lupo e Nicolai dopo l'inizio di torneo in salita hanno aumentato la propria autostima impegnando duramente i mostri della USA da Lauser e Lucene, sconfiggendo nello spareggio i polacchi Losiak e Cantor. Il primo parziale degli ottavi ha poca storia, il primo break 5-0 frutto di una battuta corta insidiosa che grippa gli ingranaggi d'attacco. Nelle Lupo si esibisce in uno show di altissimo livello, oltre ad aspirare qualsiasi pallone meglio di un folletto mette in campo un'incredibile prova in attacco schiacciando a terra l'80% dei palloni che passano sulle sue mani. Insomma un risultato che non premia Alex Ranghieri, il nostro friulano, che però può comunque assolutamente vantarsi di aver fatto un'ottima Olimpiade. Andiamo adesso sulle pagine nazionali, vediamo come la Gazzetta dello Sport apre il suo quotidiano con oro tira oro, Rio 2016, Rossetti infallibile 94 su 94, lo skit regala solo trionfi dopo Diana Bacosi, la splendida impresa di Gabriele, 21 anni, figlio d'arte, il tiro è diventato miniera di medaglie e oggi campriani per il bis. Nella carabine ricordiamo anche poi questa notte il grandissimo oro di Greg Poltreneri, un oro nella 1500 metri, stile libero, assolutamente meraviglioso. Mica male l'Inter di De Boer in taglio alto, Inter che ieri ha giocato con il Celtic, dovrebbe essere l'ultima amichevole prima all'inizio del campionato, un 2-0 siglato da Eder e Candreba e dalle idee di Banega, si attende poi anche Joao Mario. La Juve che errori 2-2 con le Spagnole mentre Zaza è in procinto di andare al Wolfsburg in Napoli che gioca e vince con Lerta Berlino, 4 gol a Amsic e Milic con l'addio al Pipita che è il meno amaro. Pol d'Italia, Iannone scatenato col tifo di Belen, poi vale Dovizioso, prima fila trecolore con Belen, insomma grande amica di Iannone, per un periodo si era parlato anche di una relazione diversa, e invece a quanto pare sono soltanto amici e questa è una notizia fondamentale che vi farà vivere meglio la giornata. Poi ancora in taglio basso, Bolt rischia contro Gatlin, Phelps battuto dal baby fan, anche questa è una bella storia di sport con Phelps che deve accontentarsi dell'argento, contro appunto quest'atleta che soltanto 4 anni fa posava con lui in una foto, il suo idolo Phelps che adesso è diventato l'atleta da battere e che è stato anche battuto, mentre Bolt ha comunque vinto la sua batteria, tuffi e vela tutti in acqua con Cagnotto e Tartaglini, oggi è la 21 la finale, come abbiamo detto prima c'è però il problema acqua verde da risolvere, è partita anche la Premier, non è caduta soltanto l'Udinese ma anche il Leicester, i campioni in carica di Claudio Ranieri sono stati sconfitti dall'Ul City in una partita direi assolutamente inaspettata dal punto di vista del risultato finale perché l'Ul City ha soltanto 13 giocatori in rosa, esclusi poi ovviamente in primavera, ha dei problemi societari clamorosi con il presidente che si è purtroppo ammalato, i dirigenti si sono dimessi e l'allenatore aveva il contratto fino alla gara di ieri, dunque Leicester che cade contro l'Ul City, vince Francesco Guidolin con lo Swansea, mentre il Watford di Mazzarri pareggia 1-1, domani poi tocca a Conte, dunque Chelsea che è pronto a scendere in campo, mentre poi chiudiamo con la Coppa Italia purtroppo l'Udinese flop, passa lo Spezia, poker del Toro, Mialovic duro invece con Maximovic, noi ci avviamo anche a leggere quelle che sono chiaramente anche le opinioni della Gazzetta sulla nostra partita, una partita che ci ha visto purtroppo uscire fuori dalla Coppa Italia, una Coppa Italia che negli anni non ci ha mai visto purtroppo grandi protagonisti, se non quattro anni fa con l'ultima di Francesco Guidolin sulla banchina bianconera, la semifinale con la Fiorentina, poi per il resto davvero poche pochissime emozioni, Udinese fuori tra i fischi, lo Spezia vola con Nenè, una doppietta dell'ex Cagliaritano, condanna i friulani contestati che hanno anche sbagliato un rigore con Duvan, Zapata, Nenè è il giocatore più rappresentativo della gara secondo la Gazzetta dello Sport, combattivo e rapido, fa ruotare su di sé tutte le manovre offensive dello Spezia, presente in zona gole, sa aiutare anche in difesa, parliamo comunque di un giocatore che ha fatto a volta la differenza anche in Serie A, per cui assolutamente da apprezzare, chiudiamo anzi con quelle che sono le pagelle della gara, per quanto riguarda l'Udinese, 5 e mezzo a Carnesis, no, vuol dire che probabilmente la partita non è stata vista allora per il 5 e mezzo al Greco che ha fatto alcune parate davvero straordinarie, 5 e mezzo a Nilo, 5 e mezzo a Felipe, 5 e mezzo a Widmer, 6 a Bado, 5 e mezzo a Fofanà, 5 e mezzo anche a Alfredson, 6 per De Paul, 5 per Armero, 5 Matos, 6 per Nieranda che ha fatto vedere qualcosina di buono nel periodo in cui è entrato a dare Manforte all'attacco e 5 per Dovan Zapata, insomma chiaramente giudizi che non possono essere positivi e non potrebbe essere altrimenti. E questa è l'ultima notizia della nostra rassegna stampa sportiva, chiudiamo purtroppo questa settimana con una sconfitta con lo Spezia con l'augurio di poterci risentire domani già con un nuovo spirito. Non resta che salutarci e augurarvi come al solito. Buongiorno Friuli! Grazie a tutti!